Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma ci sono 8 km di coda per incidente segnalato tra il Bivio per la A11 e Firenze in Pruneta e in direzione Roma per traffico intenso code tra Firenzuola e Calenzano. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Ricordiamo che per lavori sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandici con la chiusura dell'uscita di Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Sulla Fibili per lavori un chilometro di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra assigna in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!